Una cosa molto importante che è venuta subito fuori è legata alla pendolarità come elemento generatore dell'area vasta e quindi della capacità di resilienza positiva dell'area vasta, ma abbiamo fatto un po' il punto sul processo storico che ha creato Pordenone l'area vasta e quindi le trasformazioni dell'epoca e dei periodi più significativi di Pordenone dei quali dobbiamo prendere atto e che forse in alcuni casi potrebbero essere approfonditi. Abbiamo fatto un escursus dagli anni 50 fino agli anni 80 con particolare attenzione, quindi dall'agroindustriale sino alla nuova Pordenone dei servizi con una industrializzazione un fisarmonica, crescita, decrescita, crescita, decrescita che si è creata nel tempo ed è un elemento da tenere in forte considerazione. Innanzitutto la cosa prioritaria è che quando si parla di capitale naturale bisogna ragionare in termini d'area vasta perché il canale non finisce al confine politico né del comune né della provincia. Quindi come vedete trasversalmente qua ci sono i temi, qua c'è una bella graffa che dice la gestione deve essere di area vasta. Poi abbiamo analizzato sia le funzioni ecosistemiche di un bene ma anche le funzioni sociali antropiche, quindi un esempio dell'acqua, abbiamo parlato della valorizzazione degli ambienti naturali attraverso una maggiore conoscenza, una maggiore fruizione e queste cose sono assolutamente interrelate per una migliore tutela, ma al tempo stesso quali gli utilizzi antropici e quali le problematiche, la gestione delle alluvioni. Gli esempi che sono emersi sono stati ad esempio il fatto che Pordenone un tempo era chiamata la piccola Manchester, ad oggi tutto il sistema delle rogge è per lo più interrato, quindi si è persa non solo una qualità paesaggistica ma anche una qualità sicuramente idrologica è di pulizia dei canali data dal contadino che era sul territorio, insomma diciamo che c'è una problematica sociologica di abbandono delle campagne e successivamente anche urbanistica che ha fatto sì che ad oggi gestire le alluvioni sia anche più difficoltoso che non in passato. Abbiamo riportato due macro questioni che credo anche facciano emergere quella che è stata una grossa onestà intellettuale da parte del gruppo che prima di tutto si è chiesto ma noi a Pordenone siamo capaci di trovare nuovi approcci, siamo capaci di essere resilienti su questi aspetti perché ci rendiamo conto che c'è una grossa richiesta ad esempio di mettersi in rete, di condividere, di lavorare assieme ma poi nel momento in cui dobbiamo trovare le modalità per farlo troviamo delle difficoltà. Allora per quanto riguarda le prospettive perché comunque il discorso è stato positivo si parlava di una sostenibilità che deve essere un modello di sviluppo sostenibile che deve essere legato sia alla dimensione sociale, a quella ambientale ma anche a quella economica quindi tutte le valutazioni che vengono fatte devono sempre tener conto della capacità effettiva poi di una proposta di reggere, di essere efficiente ed efficace e quindi si segnalava la necessità di individuare delle priorità. Faccio l'esempio ad esempio di strutture industriali che potrebbero essere recuperate per nuovi utilizzi diceva attenzione perché su molte di queste le analisi di fattibilità hanno rivelato che sarebbero poi ingestibili, sarebbe un fallimento quindi individuiamo veramente quelli che sono i luoghi su cui investire e solo su alcuni poi decidiamo come creare delle nuove opportunità. Le associazioni diventano sempre più un punto di riferimento, ci siamo interrogati su come mai è più semplice chiedere aiuto ad un'associazione piuttosto che ai servizi sociali per mettere in evidenza alcune caratteristiche anche di quell'attitudine a relazionarsi in un modo più spontaneo. Se ho bisogno nell'avvicinarmi a un'associazione vengo meno indagato sul mio bisogno, vengo più accolto con un avvicinamento più soft, più morbido, non devo giustificare la mia condizione. Vengo accolto in maniera meno regolamentata innanzitutto, quindi più aperta, con la possibilità anche di poter dire come posso adattarmi a questa situazione, chiedo un aiuto, mi lascio uno spazio di manovra, provo ad adattarmi e questo è più semplice nel dialogo. Le associazioni per come sono composte hanno anche uno sguardo verso l'altro e l'oltre, non tutti i componenti di un'associazione sono dello stesso quartiere o della stessa città, spesso e volentieri sono componenti che vengono da territori differenti, questo è un'enorme risorsa in situazioni dove guardare a buone pratiche altrui può essere una delle attivazioni da mettere in campo. Un altro aspetto interessante che capita o perlomeno risulta più evidente in queste condizioni di crisi è che mi rivolgo all'associazione, l'associazione è nelle condizioni, alle capacità per sue indole, per sue esperienze, per il suo modo di lavoro di operare, anche di indurre un lavoro, di avere un indotto che è quello lavorativo, creando nuove tipologie di lavori o nuove opportunità di lavoro. In questa situazione questo è più evidente e quindi sono pratiche esperienze che effettivamente possono essere attivate in maniera a questo punto più consapevole, più diretta e più mirata.